Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro, ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Torino e Napoli, è tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara, Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. E ora si fa sul serio, si parte. De Silvestri, Diago Falche con il lancio sulla fascia, ci mette una pezza. Va di testa e c'è il gol del Torino. Sono partiti benissimo, non è un caso che abbiano subito trovato il vantaggio. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Portare Gatti! Portare Gatti! Portare Gatti! Portare Gatti! Portare Gatti! Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Mertens. Hamsik. La gioca a sinistra. Belotti. Mario Rui. Hamsik. Lorenzo Insigne. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Palla in profondità sulla fascia. ha spazio sulla fascia. Insigne. Bella apertura. Mette la palla dentro. Mertens. Mertens. Non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così. Spalle alla porta. Alain. Prova il filtrante. Palla nello spazio. Attenzione. Attenzione. Grande chance. Take el duro ma efficace. Gioca una palla lunga. Mertens. Il Napoli, da qualche minuto, ha stretto le maglie in dipesa. Sente che per il momento... Prova la conclusione. È stato splendido l'intervento del portiere. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. La butta via e fa respirare la difesa. È urla il biolo. Mette la palla in avanti. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Prova Kai e corre. Eccolo qui. Hansi. Il difensore ci arriva. Mario Rui. Insegne. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Grande forza fisica. Non si è fatto sopraffare. De Silvestri. Recupera un pallone importante. Mertens. Riceve la palla. Pericolo. Un culo. Il Napoli ancora un po' di tempo prima dell'intervallo per spingere a caccia del pareggio. Acqua. Bel pallone. Palla intercettata. Allan. Prova con la palla lunga. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Hamzik. e ora avranno una chance da calcio d'angolo. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avare di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Il secondo tempo è cominciato. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Prova Kayekon. Eccolo qui. Lorenzo Insigne. E c'è la rete. Anche dopo lo svantaggio non hanno mai perso la calma. E ora potrebbero anche completare la rimonta. Da lì è senza difensori e a impenserirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Si ricomincia da una situazione di parità. Equilibrio e spettacolo. Credo che ci divertiremo ancora molto. Iago Falke, Mario Rui, Hamzik, Mertens, Allan, Raúl Albiol. E' davvero una bella serie di passaggi questa. Qui marcatura asfissiante. Vuole la profondità. Intercetta il passaggio. Pericolo. Era un tentativo apprezzabile. Non ha trovato l'uomo però. L'intenzione era molto buona. L'esecuzione un po' meno. Mertens prova a passare con un pallone profondo. la fria qua. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Baselli. Iago Falke allarga sulla fascia. Iago Falke allarga sulla fascia. Può cercare il taglio in mezzo. Cerca spazio. Cross di Iago Falke. Ci prova. La toglie dalla porta. La palla era insidiosa e con uno strano effetto. La palla era insidiosa e con uno strano effetto. Qualche brivido al portiere deve essere venuto. Mertens. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Ma dici? Sì. Cercano di tenere le distanze giuste. Puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocati in profondità. O addirittura nell'uno contro uno. Un culo. Iago Falke. Ancora fuori dall'aria. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Mertens. Allarga il gioco a destra. Kayekon. Usai. Cerca di allungare il gioco. Prova Kayekon. Eccolo qui. Occasione. Usai. Riceve un palloncato alla conclusione. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi. Mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. Cerca l'uomo là davanti. Qui deve tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Penso che sia stato troppo velletario a tentare una conclusione da quella posizione. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. la mette sulla sinistra. Iaic. Circa lo spunto. Belotti la gioca a sinistra. Molinaro la gioca all'indietro. Può colpire. Un gol d'antologia! Che gol fantastico! E questo probabilmente chiude ogni discorso. Reina? Non l'ha vista partire. Probabilmente la difesa gli ha ostruito la visuale. Guardate come la palla si infila nel barco aperto dei difensori. Guardate come la palla. 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 Sembra che il mister voglia fare un altro cambio In effetti non ne aveva più L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo Può essere il gol E l'arbitro dice che può bastare Una buona prestazione sul piano del carattere Dell'organizzazione Tutto questo però non basta Per portare a casa un risultato positivo Qual è la tua analisi di questa gara Luca? Hanno dovuto rincorrere fin dall'inizio E questo è inevitabilmente